Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi, siamo qui tornati per l'episodio numero 32 della nostra carriera su F1 Manager 2022 con McLaren, round numero 10 di questa stagione 2023 GP di Silverstone, uno dei circuiti più iconici del mondiale. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 9, il GP del Canada, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Ultimo Gran Premio che è stato pazzesco per noi, abbiamo dimostrato un passo molto migliore di quello che potessimo mai immaginarci e finalmente è arrivata la prima vittoria con McLaren per George Russell. Quindi ora i nostri due piloti sono pari come numero di vittorie, una a testa in questa stagione e non siamo neanche a metà della stagione e di punti distano solo due punti. Tra George Russell che è dietro rispetto a Lando Norris ci sono solo due punti di distacco, quindi la lotta si sta facendo incandescente tra i due. Ma stiamo dimostrando comunque di avere una vettura che ha una capacità di sviluppo molto molto importante. Vediamo se in un circuito molto veloce come quello di Silverstone continueremo a confermare questi grandi progressi che stiamo avendo negli ultimi Gran Premi di questa stagione, negli ultimi episodi. Ovviamente come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare la serie, per supportare la McLaren e vi chiedo come sempre di lasciare un commento, fatemi sapere tutto ciò che volete qui sotto nei commenti. I consigli come vedete sono sempre ben accetti, cerco sempre di rispondervi per quanto possibile e ovviamente se volete lasciate anche un pronostico per la prossima gara. Il round numero 11, l'Austrian Grand Prix Red Bull Ring, quindi GP di casa per la scuderia delle bevande energetiche. Lasciate il vostro pronostico, ovviamente se siete nuovi nel canale e vi piace questo tipo di contenuti, vi piace questa carriera, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale. Vi assicuro che per me è fondamentale, per me è importantissimo per avere sempre una spinta maggiore per la creazione di nuovi contenuti, sempre con maggior qualità. Quindi vi ringrazio se vi iscriverete al canale, se deciderete di iscrivervi, se ci siete, visto che ci siete, anzi cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, per ricevere sempre le notifiche riguardo alle nuove uscite del canale. Detto questo non perdiamo altro tempo, clicchiamo su continua, andiamo ad indossare le nostre cuffie da Team Principal e impostiamo gli obiettivi prestazionali per questo fine settimana di gara. Impostati gli obiettivi prestazionali, non perdiamo altro tempo, scendiamo in pista per l'inizio dello weekend di gara. Siamo nel leggendario circuito di Silverstone che ospitò il primissimo gran premio del campionato di Formula 1 nel lontano 1950. In questo posto ogni ciuffo d'erba respira alta velocità e il pubblico è in fermento pronto sugli spalti. Silverstone è un circuito storico estremamente complesso che chiede molto alle vetture. La deportanza sarà l'asso nella manica delle squadre che vogliono puntare alla vittoria. La stagione è quasi al giro di Boa e la domanda sembra inevitabile. Cos'altro avrà in serbo per le scuderie? C'è un solo modo per scoprirlo. Il weekend apre il sipario, ora! Ed eccoci pronti per l'inizio del nostro weekend di gara. La domenica è prevista pioggia intensa, sarà una gara incredibile sicuramente, piena di colpi di scena. Comunque proseguiamo e andiamo subito ad impostare i setup delle nostre due vetture. Impostati i setup delle nostre due vetture, scendiamo in pista e iniziano le prove libere uno qui a Silverstone. Scendono in pista le nostre due vetture, come avete visto, Doohan al posto di Lando Norris in queste prove libere uno. Insieme quindi a George Russell, gomma bianca montata, scendiamo in pista per l'inizio delle PL1. Noi come sempre ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Ok, ci siamo! È l'inizio del sabato di qualifiche. Cielo sereno, totalmente diverso da quello che è previsto per la domenica di gara. Andiamo a vedere i risultati delle prove libere per noi, componenti usuratissimi, soprattutto con George Russell. Verstappen-Leclerc-Sainz i primi tre, Russell in decima e tredicesimo Jack Doohan. PL2, Verstappen-Leclerc-Perez con Russell in sedicesima e Lando Norris in ventesima, che ha fatto stint lunghissimi, ben 36 giri per lui. PL3 con Verstappen-Leclerc-Perez. Lando in undicesima, che ha comunque fatto 39 giri. George Russell in sedicesima, ha fatto comunque anche lui 33 giri. Proseguiamo. Setup. 100% fiducia il setup di Lando Norris, mentre qualche difficoltà in più con il nostro George Russell. Ho provato ad effettuare qualche piccola modifica, siamo al 96% di apprezzamento setup. Vediamo se riusciamo a raggiungere un 98% con questo test, con questo assetto test. Naturalmente andiamo a modificare tutti i componenti della nostra vettura per montare quelli più nuovi. componenti nuovi montati. Abbiamo montato un nuovo cambio per entrambi i nostri piloti, per utilizzare quello un po' più usurato. Poi nelle prove libere, nelle prossime sessioni di prove libere, montate le gomme rosse nuove. Non perdiamo altro tempo, scendiamo in pista per iniziare con il nostro Q1. Radio check completato, aspettiamo qualche minuto e poi scendiamo in pista. Prima andiamo a vedere il meteo, ma come vedete è cielo sereno. Chissà perché domani va a piovere con pioggia intensa. Non sembra possibile con il tempo, con il meteo che si vede in questo momento. Comunque, qualche minuto e scendiamo in pista. È il momento di scendere in pista per noi. George Russell davanti a Lando Norris, ora che la pista sembra piuttosto libera, perlomeno nella zona dove stiamo andando, stiamo scendendo in pista noi, è abbastanza libera. Vediamo che tempo saremo in grado di siglare in questo primo tentativo del Q1. Russell sta andando a chiudere primo e secondo settore fucsia. Forse Norris ha incontrato leggermente traffico. 1-27-1 per Russell. Norris infatti ha un secondo dal compagno di squadra, quindi sicuramente con il 23enne, ormai 24enne britannico, in effetti continuo a dire 23enne, ma siamo nel 2023, quindi 24enne Norris, 25enne Russell. Con Norris sicuramente dovremmo scendere nuovamente in pista per tentare di migliorare il nostro giro, mentre con Russell penso che sia un tentativo piuttosto valido. 3 minuti al termine della sessione. Norris in 14esima posizione con Stroll e Zone molto vicini. Scendiamo in pista comunque con la gomma usata. Russell in sesta posizione a 466 millesimi da Sainz. Abbiamo entrambe le Alfa Tauri davanti. Gasly e Vettel sembrano entrambi molto molto veloci questo weekend. Lando sta andando a chiudere. Il primo settore non ce l'ha segnato. Ci sta segnando il secondo miglioramento. Sale in settima alle spalle del compagno di squadra di tre decimi, ma è un tempo naturalmente valido per qualificarci tranquillamente nel Q2. Come detto qualificati, Verstappen Leclerc, Sainz, Russell in settima, Lando Norris in nona posizione, eliminati. Magnus and Stroll, Guan Yuji, Otsunoda e Mick Schumacher. Proseguiamo e pronti a scendere in pista per l'inizio del nostro Q2. Ovviamente con gomma usata per entrambi, anche se Norris ci ha fatto due giri. Vediamo che tempo riesce a siglare. Avviamo le nostre qualifiche. Gestisci qualifiche due e scendiamo immediatamente in pista. George Russell davanti a Lando Norris. Ed eccolo Russell che chiude il suo giro. Abbiamo ancora una volta incontrato un po' di traffico. Russell fa secondo e terzo settore fucsia. Norris sempre a cinque decimi dal compagno di squadra. Quasi sei. Secondo me ha incontrato un po' più di traffico. Comunque giri che non sono di basso livello. Norris sicuramente non sarà tra i qualificati. Russell con questo 27.2 potrebbe anche essere tra i qualificati. Però naturalmente scenderemo in pista con entrambi per migliorare il nostro tentativo con gomma nuova. È già sceso in pista qualcuno. Norris è qualificato al momento in settima con Russell in quarta. Scendiamo in pista con entrambi i nostri piloti. Norris davanti a George Russell. Russell che aspetta però probabilmente sta passando un'altra vettura. Deve aspettare tanto George Russell. Comunque siamo qualificati probabilmente perché in tanti hanno trovato tanto traffico. Perché abbiamo Ricciardo lontanissimo, Bottas molto lontano, Gasly in tredicesima. Quindi in tantissimi andranno a migliorare. Russell è sceso in pista solo ora ma è in quarta posizione. Ha un buon tempo e sicuramente riuscirà a migliorare con questa gomma. Norris netto miglioramento con questa gomma. Prima e secondo settore. Terzo settore verdi. Norris si mette alle spalle di George Russell che ancora lontano sta andando a chiudere il suo giro. Necessario rifornimento come sempre. George Russell sta migliorando sia nel primo che nel secondo settore. Vediamo in che posizione si mette. Rimane in quarta dietro Vettel. Sei decimi Russell dalle Clerc che si mette in vetta. Norris in sesta due decimi dal compagno di squadra. Sembra che qui le condizioni dei componenti stiano comunque inficiando nella prestazione di Norris perché Norris ha dei componenti più usurati e si confermano entrambe le Alfa Tauri davanti alle nostre McLaren. Qualificati Verstappen, Leclerc, Sainz, Perez, Gasly, Vettel, Russell, Norris, Bottas e Alonso eliminate entrambe le Mercedes Hamilton o con Ricciardo Albon e Nicolas Latifi. Proseguiamo. Andiamo subito ovviamente a montare la gomma usata perché voglio salvare un treno di gomme perché potrebbe servire... Non ricordo ora... Non ricordo mentre ho visto il punteggio fiducia 97% la fiducia di George Russell nel suo setup. Questo è il setup di George Russell. Dicevo, mi pare di dover salvare un treno di gomme però non sono convinto. Forse è una strategia o una sola sosta da gialle a bianche. Nel dubbio andiamo a scendere in pista con le gomme usate con entrambi i nostri piloti e poi faremo il tentativo con gomma nuova proprio al termine della sessione. Russell davanti a Lando Norris, primo tentativo per noi. Eccolo George che sta andando a terminare il suo tentativo davanti al compagno di squadra. 1-27-1, un buon tempo con Norris sempre a due decimi, due decimi e mezzo. Sta soffrendo Norris e siamo davanti a Bottas. Quindi buon tempo da parte di George Russell, battuto poi di otto decimi e mezzo da Max Verstappen. Ma ci sta tutto. Vediamo se saremo in grado di migliorare nettamente il nostro tempo con la gomma nuova. Qualcuno scende già in pista, Russell in settima, Norris in nona. Facciamo scendere in pista prima Lando Norris davanti a George Russell. Scende in pista anche una delle Ferrari. Ora scende in pista a Russell. Purtroppo Russell davanti a Norris perché Russell è il primo dei due box. Quindi scende in pista davanti. Comunque vediamo se riusciamo a migliorare perché secondo me Russell come obiettivo può avere quello di mettersi davanti a Sebastian Vettel. Testa coda di Verstappen che quindi non migliorerà per noi necessario rifornimento. Chiude Russell che ha migliorato solo nel secondo settore e purtroppo non si mette davanti a Vettel. Norris migliore si mette davanti a Bottas che però ancora deve chiudere il suo giro. Per ora è settima e ottava posizione. Alfa Tauri che gran vettura. Sta diventando praticamente la terza forza. Perlomeno sembra la terza forza nettamente in questo gran premio di Silverstone. Bottas ha chiuso ma non ha migliorato. Quindi confermiamo settima e ottava posizione per Russell e Lando Norris. Verstappen nonostante il testa coda sul finale fa esattamente lo stesso tempo che aveva siglato nel Q2. Si prende la pole position davanti alle Clerc e Sainz. Poi Perez, Gasly, Vettel, Russell, Norris, Bottas e Alonso. Questi i primi dieci. Non perdiamo altro tempo. Scendiamo in pista per l'inizio della gara. Benvenuti ormai ci siamo. Le squadre si stanno affrettando a eseguire gli ultimi controlli. Le qualifiche sono andate bene per la McLaren che può scendere in pista con la mente sgombra. La Red Bull ci ha stupito con una prestazione eccellente nelle qualifiche. I suoi piloti adesso cercheranno di sfruttare il vantaggio per dominare la gara. La gara di oggi si terrà sotto un cielo azzurro. Le squadre potranno quindi mettere in atto le loro strategie senza temere complicazioni esterne. La gara di oggi qui a Silverstone sarà sicuramente uno spettacolo e noi abbiamo già un posto in prima fila. Ed eccoci pronti per l'inizio della nostra gara. Per ora il cielo è sereno ma sicuramente diventerà piovoso. All'incirca metà gara sarà molto importante scegliere la nostra strategia ovviamente per noi strategia B. Montiamo la media e portiamo la nostra vettura fino all'incirca al periodo della pioggia perché naturalmente dovremo montare direttamente o le gomme full wet perché sembra che per un po' ci sarà addirittura pioggia molto intensa però sembra che sia più fattibile con le gomme intermedie. Se riusciamo a tenere le intermedie per tutto questo settore della gara poi riusciremo probabilmente a effettuare un pit stop in meno rispetto agli altri. Quindi strategia B per entrambi i nostri piloti. Montiamo la gomma media e la portiamo fino al periodo della pioggia e soprattutto andiamo a mettere un po' più di carburante proprio per poter spingere un po' di più con la nostra vettura. Andiamo subito in spinta massima per provare a guadagnare qualcosina nei confronti dei nostri avversari ma attenzione alla gestione delle gomme. Settima ottava posizione per noi, gara molto molto importante perché abbiamo la possibilità di guadagnare tanti tanti punti nei confronti di Mercedes e definitivamente lasciarle indietro e poi la nostra lotta per il terzo posto sarà praticamente con Alfa Tauri che sta dimostrando di aver costruito una grandissima vettura. Avviamo la nostra gara! È una splendida giornata di sole e i piloti sono pronti! Ed ecco qui George Russell! Non è al ridosso dei primi come sperava ma sappiamo che in gara bastano poche curve per ribaltare lo schieramento iniziale. Norris qui, ancora più indietro. Partendo dalla metà alta della griglia si trova nelle condizioni ideali. Raccoglieranno il frutto dei loro sforzi? L'attesa è tantissima e i piloti sono pronti. Questo è il Gran Premio di Gran Bretagna. Cinque luci che si spengono in questo istante. Parte il Gran Premio. Andiamo a vedere George Russell se riesce ad avere una buona partenza. È partito bene anche Norris in un primo momento poi invece ha perso la posizione nei confronti di Bottas. Vediamo se riesce all'esterno a difendersi visto che poi diventerà interno ma noi stiamo seguendo Russell. Bravo Norris, bravo Norris all'interno. Dovrebbe essersi difeso però Bottas si rinfila all'interno. Forse è persa la posizione. Vediamo le gomme, vediamo le gomme. Tutti con le medie tranne Mick Schumacher in fondo quindi tutti cercheranno di allungare. Bravo Norris è riuscito a difendersi e intanto Gasly ha preso la posizione nei confronti di Sergio Perez. Attenzione a gestire bene la gomma soprattutto con Lando Norris che ha dimostrato di non avere una gestione a livello di quella di Russell e ora vediamo anche se riusciamo a mantenere bene la scia di questi piloti là davanti perché sarà fondamentale per le successive fasi di gara. Attenzione perché Norris sta provando a mettere sotto pressione George Russell che si trova all'interno. Norris prova all'esterno a tenere la vettura. Attenzione anche a non consumare tutta la batteria perché qui sarà difficilissimo riuscire a ricaricarla. Quindi cominciamo a metterci in gestione. Tra poco dopo i primi due o tre giri quando avremo il DRS e cercheremo naturalmente di tenere il DRS dovremmo cominciare a gestire un po' meglio la nostra gomma. Siamo al sesto giro. Aggiornamento. I primi quattro se ne sono completamente andanti. Anzi i primi tre scusate. Perez a tre secondi e sette e poi siamo tutti incollati. Vettel, Gasly, Russell e Norris e stiamo cercando di distanziare dietro Lewis Hamilton per mettere un po' di vantaggio e quindi giocarci solo queste posizioni. Possiamo giocarci le posizioni ai piedi del podio in questa gara. Non abbiamo assolutamente il passo per tenere quei primi tre che se ne sono fuggiti praticamente dopo due giri. Perez invece sta soffrendo tanto e le Alfa Tauri stanno dimostrando di avere un buon passo ma noi non stiamo faticando perché comunque il carburante in più ci sta aiutando per poter continuare a spingere e tenerci sempre molto vicini. Attenzione, Norris ci prova nei confronti di George Russell. Non dobbiamo perdere però il DRS in queste lotte tra di noi. Bandiera gialla, bandiera gialla, testa coda di Leclerc. E quindi siamo incollati a Leclerc ora. Andiamo a rivederlo. Ci siamo. Ecco Leclerc. Oh no, non ci credo. Lottando con Verstappen e ora per Leclerc sarà difficilissimo riuscire a riprendere il gruppetto là davanti perché Verstappen e Sainz andranno a sfruttarsi a vicenda. Il DRS a meno che Verstappen non riesca a distanziare Sainz. Attenzione perché Sainz è molto molto al limite. Comunque, ora diventa praticamente una lotta anche per la terza posizione fin tanto che riusciremo a tenere il passo di Leclerc. Poi c'è Vettel, Perez, Gasly, Russell e Norris con Bottas a un secondo e sei che quindi non ha il DRS a sua disposizione. Siamo al tredicesimo giro. Aggiornamento e non succede assolutamente niente. Leclerc si è messo davanti a tutti, a questo gruppetto. Poi c'è Gasly, Perez e Vettel. Noi rimaniamo in settima e ottava posizione perché sto cercando di gestire la batteria, di gestire la gomma. Noi gli attacchi li proveremo magari con un pit stop un po' ritardato. Potremmo pensare di ritardare leggermente il pit stop ma per ora ci troviamo in questa buona condizione. Non ha senso tentare l'attacco nei confronti dei piloti davanti fin tanto che stiamo gestendo alla grande la nostra batteria, la nostra gomma eccetera. Non voglio forzare troppo il passo. Il pit stop presuppongo che avverrà intorno al ventesimo, venticinquesimo giro per montare la gomma intermedia. Naturalmente voglio valutare se qualcuno andrà a montare la full wet oppure se tutti monteranno la intermedia per cercare di allungare perché probabilmente la pioggia veramente intensa non durerà tantissimo però la pista potrebbe diventare molto molto bagnata e quindi saranno necessarie le full wet. Tutte valutazioni da fare in seguito. Noi con due vetture così potremmo pensare anche di differenziare le strategie e naturalmente rischiamo di perdere una delle due vetture però naturalmente questo ci permetterebbe magari di lottare per il podio con le vetture là davanti. Revista pista bagnata dopo un testa coda anche di Yugi Tsunoda. Norris sta avendo qualche difficoltà in più. Abbiamo dovuto per un attimo aumentare la batteria per farlo riavvicinare perché rischiava di perdere il DRS. Siamo sempre in quella posizione, non cambia nulla, 17esima posizione abbiamo 10 secondi di vantaggio nei confronti di Valtteri Bottas quindi abbiamo fatto letteralmente il vuoto là dietro. Leclerc mantiene lo stesso distacco da quei due là davanti che quindi non riescono a scappare via letteralmente quindi la gara è tutta aperta perché siamo sempre sui 3 secondi da Verstappen e Sainz. Sono proprio Leclerc e Perez che in questo momento stanno riuscendo a trascinarci. Attenzione a Vettel perché non è più così vicino e dobbiamo stare attenti a non perdere il DRS perché è vero che noi non vogliamo cioè non possiamo probabilmente lottare con i primi quattro ma anche in altre gare era stato così e poi invece magari come nell'ultima del Canadian Grand Prix e poi invece siamo riusciti a vincere la gara stando incollati per tutta la gara e gestendo la nostra vettura. Con Lando andiamo in accumulo per cercare di accumulare un po' di carica sulla batteria ha anche un consumo leggermente superiore per quanto riguarda il carburante in questo momento però ci troviamo in un'ottima condizione abbiamo la batteria carica abbiamo tanto carburante ancora da poter sfruttare e le batterie, scusate, le gomme in buone condizioni anche se loro si trovano con una condizione migliore delle gomme circa il 60% la nostra vettura mangia un po' di più le gomme ma comunque a breve dovrebbe arrivare il momento di andare a montare la gomma intermedia. Sta cominciando a piovere purtroppo Norris ha perso il DRS ma a breve non ci dovrebbe essere più bisogno del DRS con Norris stiamo cercando di spingere per non perdere troppo troppo là davanti e probabilmente lo fermiamo per primo Lando Norris probabilmente lo fermiamo per primo la rischiamo e lo fermiamo ora Lando per montare la gomma intermedia confermiamo e montiamo la gomma intermedia con Lando Norris in questo giro si fermano Sainz e Verstappen spingiamo al massimo con George per cercare di allungare di un giro lo stint e andiamo a seguire il pit stop di Lando Norris probabilmente perderemo qualcosa con George Russell però era giusto fermare Lando perché con batteria praticamente scarica è il momento di andare a montare con lui la gomma intermedia e non perdere troppo da quelli là davanti ed eccolo Lando due secondi e quattro buonissimo il pit stop di Lando andiamo a spingere al massimo anche sulla batteria con George Russell stiamo perdendo tanto forse era meglio fare un doppio pit stop stiamo perdendo veramente tanto con i piloti là davanti con Perez, Vettel la pista è veramente tanto bagnata in questo momento è stato veramente un grosso rischio non fermarci e Lando ora si trova in una condizione molto molto migliore rispetto al compagno di squadra purtroppo però dovevamo fare una scelta eccolo Russell che addirittura tenta il sorpasso nei confronti di Leclerc lo facciamo fermare lo facciamo fermare alla fine del giro gomma intermedia direi più gomma intermedia perché comunque poi la pioggia andrà a diradarsi sorpasso di Russell nei confronti di Leclerc bravissimo George Russell in questo sorpasso poi risubisce il sorpasso là davanti con Norris che sta spingendo al massimo in questo momento e si trova con Bottas vicinissimo ma Bottas non ha ancora montato le gomme addirittura Hamilton Alonso con gomma full wet potremmo pensare Norris ha guadagnato due posizioni io quasi quasi direi di con Russell di montare la gomma full wet è rischiosa è molto rischiosa però rischiamo di guadagnare veramente tanto invece proveremo la strategia con Norris di allungare con la intermedia con Russell montiamo la full wet e cerchiamo di spingere al massimo vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa ma la pioggia sta diventando veramente veramente intensa quindi probabilmente Norris e quelli che hanno montato la gomma intermedia perderanno veramente tanto in queste prossime fasi di gara continuiamo a spingere però al massimo sulla gomma perché ha bisogno di di riscaldarsi e andiamo in neutro sulla batteria l'abbiamo un po' ricaricata Russell sta perdendo guardate quanto sta perdendo addirittura si trova davanti le due Ferrari la Ferrari di Sainz e di Verstappen che hanno già effettuato il pit stop Russell rientra in box e monta la full wet la rischiamo così con lui purtroppo abbiamo dovuto aspettare là davanti hanno montato la intermedia qualcuno la intermedia qualcuno la full wet e ora si deciderà che ha fatto la scelta giusta speriamo che in quei giri di pioggia intensa George Russell riesca a guadagnare abbastanza perché poi dovrà effettuare un altro pit stop è una gara difficilissima da gestire in questo momento è una gara veramente molto molto complicata da gestire perché teoricamente per ora ancora l'intermedia è un po' più forte Norris si trova in terza posizione in questo momento con 7 secondi di vantaggio nei confronti di Pierre Gasly che monta la intermedia quindi con Norris ora ci troviamo in un momento di buono in una buona situazione perché abbiamo un ottimo vantaggio e stiamo spingendo tantissimo ovviamente andiamo in aggressivo per evitare di spingere troppo vediamo che passo invece riuscirà a dimostrare George Russell nei confronti di coloro che montano la intermedia sono in tanti comunque quelli che hanno montato la full wet Hamilton e Alonso si stanno fermando ora i box avevano la full wet e si stanno fermando per presuppongo montare l'intermedia ora che la full wet va bene quindi Russell in questo momento sta andando a guadagnare delle posizioni vediamo che gomme vanno a montare i due piloti che si sono fermati Norris al momento sta guadagnando tantissimo là dietro nei confronti di Gasly Perez ha un buonissimo vantaggio quindi con lui cercheremo di tirarla lunga speriamo che Russell riesca a guadagnare quante più posizioni possibili con quella full wet si trova in decima Hamilton e Alonso ancora ai box e vediamo che gomma hanno montato escono dei box con la intermedia ora che è la full wet che sta andando meglio incomprensibile come strategia Pistop in più noi forziamo al massimo con George Russell sta cercando di prendere quante più posizioni possibili andiamo a spingere anche sulla batteria guardate come è più veloce ora nei confronti di Leclerc nei confronti di Vettel è il momento di cercare di spingere al massimo per guadagnare quanto più possibile nei confronti di quei piloti di Albon soprattutto Albon che si trova in sesta posizione là davanti è fondamentale prenderci la posizione ora con George Russell cercare di spingere al massimo per prenderci le posizioni nei confronti di coloro che montano la gomma intermedia ed eccolo Russell due posizioni guadagnate ecco George Russell sta spingendo molto e guadagna posizioni preziose per com'è andata la squadra non può che festeggiare siamo molto molto più veloci Russell già sta scappando via sta cercando di mettere vantaggio nei confronti di quei piloti che montano la intermedia purtroppo dobbiamo considerare che noi dobbiamo fare un pit stop in più perché dobbiamo rimontare l'intermedia Russell in sesta posizione però si è messo anche davanti a Ricciardo e Latifi che hanno comunque la stessa gomma abbiamo perso veramente veramente tanto con Russell peccato perché se gli avessimo montato l'intermedia nello stesso giro forse non avremmo perso così tanto avremmo dovuto fare un doppio pit stop forse ci troveremo in terza e quarta posizione perché Gasly ha perso veramente tantissimo avremmo dovuto fare il pit stop insieme per i nostri due piloti Norris ha sempre un vantaggio di circa 7 secondi nei confronti di Pierre Gasly mentre Russell ha rimontato tantissimo e ha un secondo e tre da Sergio Perez e sta guadagnando tanto là dietro nei confronti di Fettel e Leclerc probabilmente dopo il pit stop rischia di uscire comunque davanti a Lance Stroll che è in dodicesima posizione poi però bisogna recuperare tantissime posizioni questa pioggia ha completamente cambiato le carte in tavola però sono questi i gran premi che mi fanno veramente esaltare la pioggia sta calando nettamente dobbiamo metterci in aggressivo con Landon Horris in neutro e con Russell dobbiamo valutare alla fine del giro di fargli effettuare il pit stop purtroppo non abbiamo guadagnato abbastanza gomma intermedia per lui la pioggia sta nettamente diminuendo vedete che Perez già si rimette in fase di attacco nei confronti di George Russell che sta anche cercando di ricaricare la batteria purtroppo perderà veramente tante tante posizioni speriamo di riuscire a rimanere perlomeno davanti a Lance Stroll dovremmo comunque rimanere in zona punti con George Russell però che peccato perché lui probabilmente dei due nostri piloti era quello che aveva maggiore possibilità di riuscire ad arrivare magari ad un podio Lando Norris comunque sta cercando di difendersi da da Pierre Gasly e lo facciamo spingere al massimo perché comunque non durerà ancora tantissimo la pioggia anche se ho paura comunque che la gomma si sorriscaldi troppo pit stop per il nostro George Russell a brevissimo ed eccolo George ai box per il suo pit stop vediamo se riesce a rientrare perlomeno davanti a Lance Stroll teoricamente con la gomma nuova con la intermedia nuova dovrebbe avere un buonissimo passo si dovrebbe uscire tranquillamente davanti a Lance Stroll in decima posizione quindi comunque in zona punti e ora ci sarà tantissimo da rimontare c'è anche la Tifi che ancora monta la gomma full wet quindi risaliremo perlomeno in nona posizione peccato perché se la strategia l'avessimo azzeccata ci fossimo fermati avessimo fatto il double stack con i nostri due piloti molto molto probabilmente ci troveremo in terza e quarta posizione in questo momento attenzione bandiera gialla settore 3 bandiera gialla vediamo se c'è una safety car ci potrebbe essere una safety car mentre Russell ha fatto una rimonta incredibile nei confronti di Albon andiamo a vedere quest'incidente una Mercedes qui vediamo Daniel Ricciardo ecco l'incidente ha provocato una vera carambola questo è un colpo durissimo per la squadra riusciranno a reagire? lo vedremo brutto colpo tamponamento di Alonso nei confronti di Ricciardo che scende molto molto in basso Russell intanto ha praticamente ripreso Albon che però ha perso tanto nei confronti di Vettel a due secondi Russell per giocarsi l'ottava posizione mentre Norris sta perdendo veramente tanto in questo momento nei confronti di Pierre Gasly molto probabile che ci dovremmo giocare il podio con il pilota dell'Alfa Tauri in questo momento stiamo perdendo veramente tanto peccato perché con Russell avremmo avuto più possibilità comunque a breve cercherà di andare all'attacco nei confronti di Albon e di prendersi l'ottava piazza ed eccolo Russell Russell all'attacco stiamo sfruttando tutta la batteria per tentare l'attacco nei confronti di Albon e poi lo metteremo in fase di accumulo batteria airs scarica ma siamo davanti vediamo se riusciamo a mantenere la posizione Russell in ottava posizione e vediamo ora se riuscirà a guadagnare nei confronti di Sebastian Vettel per riavvicinarsi mentre con Norris abbiamo una gomma molto usurata e abbiamo Gasly a un secondo e due si è avvicinato tantissimo Pierre Gasly e davanti abbiamo anche un doppiato 1,85 la pioggia a circa 1 millimetro di pioggia possiamo pensare settore 2 bandiera già all'attenzione vediamo se è successo qualcosa avversario in testa coda quindi non credo che ci sia una safety car testa coda di Sainz che regala la vittoria Max Overstappen era già molto lontano Sainz ma con questo regala ancora di più la vittoria al pilota olandese che ora ha un vantaggio di 10 secondi e Gasly è a portata di DRS anche se non c'è ancora il DRS è a portata di DRS da Norris ha perso 7 secondi Norris nel periodo di pioggia perché stiamo cercando di gestire anche la nostra gomma dobbiamo gestire la nostra gomma vediamo in che condizioni al 64% la gomma di Gasly quindi direi che ci sta tutto quello che è successo vediamo vediamo di arrivare al momento del cambio cercare di anticipare magari leggermente il cambio perché a momenti la pioggia va ad aumentare a momenti va a diminuire quindi ora sarà una gara completamente di difesa per Lando Norris ok è terminata la pioggia stiamo spingendo al massimo con George per provare a guadagnare qualcosina nei confronti di Vettel ma non riusciamo con Norris abbiamo alle calcani a Gasly e Perez e sta arrivando anche Charles Leclerc quindi probabilmente sulla sull'asciutto dovremo difenderci praticamente per gran parte della gara guardate Gasly come assolutamente minaccioso all'esterno cerca di tenere la vettura all'esterno poi diventa interno e stavolta probabilmente il sorpasso lo andiamo a subire cerchiamo di mettere in attacco e penso di fare questo più un altro giro e poi fermarmi per montare la gomma da asciutto vediamo se si fermano ora loro no non credo non credo che si vada a fermare ora noi facciamo un altro giro e poi ci fermiamo e ora c'è da decidere 14 giri riusciamo con la gomma soft dovremmo teoricamente riuscire a gestirla bene box in this lap si ci fermiamo per la gomma rossa per entrambi i nostri piloti facciamo un doppio pit stop perché possiamo farlo gomma rossa per entrambi i nostri piloti Lando Norris in quarta posizione sta cercando di tenere la scia di Pierre Gasly sarà molto molto complicato riuscire a competere per il podio Russell si è già fermato e ci sta ci sta perché la pioggia sta diminuendo è un po' rischioso perché la gomma la dovremmo un po' gestire con George Russell però vediamo perché potremmo guadagnare qualcosina con Russell proviamo un undercut nei confronti dei piloti la davanti la pista è asciutta e quindi forse in questo momento potremo avere un vantaggio con la gomma rossa cercheremo di farlo spingere al massimo il nostro George in questo giro è capitato casualmente ma forse è stata la scelta giusta con George Russell quella di fermarci alla fine di questo giro e riparte George Russell in undicesima posizione subito dietro Valtteri Bottas vediamo di farlo spingere al massimo e vedere se riusciamo a guadagnare magari un po' nei confronti di Vettel per giocarci anche la settima posizione ed eccolo Norris Haybox che ha subito il sorpasso anche da parte di Sergio Perez Gasly ha il box davanti a noi quindi forse potrebbe venire bloccato il pilota dell'Alfa Tauri ma noi potremmo venire bloccati da Sergio Perez Pistop un po' lentino infatti bloccati da Sergio Perez sicuramente ci troviamo dietro anche Gasly che è riuscito ad uscire prima e Russell vediamo se sta guadagnando non sicuramente nei confronti di Lando Norris e di quel gruppetto con Norris dobbiamo spingere ma non spingiamo troppo perché sappiamo che il suo consumo è molto importante sulle gomme andiamo in aggressivo con Russell dobbiamo andare in standard e vediamo se è riuscito a guadagnare nei confronti di Vettel che però è già uscito è già uscito abbiamo guadagnato nei confronti di Albon siamo nuovamente in ottava posizione non siamo lontani abbiamo guadagnato almeno due secondi nei confronti di Sebastian Vettel ma non basta Gasly bloccaggio e si trova dietro di noi ora bloccaggio per Pierre Gasly è coinvolto il pilota dell'Alfa Tau ruote bloccate un errore che costerà caro e ora ci troviamo in quarta posizione giro veloce per George Russell intanto ci troviamo in quarta a tiro di DRS con Perez con Gasly a tre secondi e mezzo vediamo se riusciamo a giocarci questo podio con Perez proviamo a spingere un po' e dobbiamo andare in fase di accumulo sulla batteria perché dobbiamo cercare di accumulare per poi magari tentare l'attacco nei confronti di Perez sarà difficile ma questo è un gran regalo da parte di Pierre Gasly testa coda di Vettel e Russell è incollato ora è rimasto bloccato dietro Russell e purtroppo vabbè non potevamo più raggiungere Gasly che addirittura con Leclerc sta raggiungendo il nostro Norris con Perez 4 giri alla fine sono vicinissimi là dietro tra poco potrebbero essere a tiro di DRS anche loro ma noi ci ritroviamo subito dietro Perez vediamo se riusciremo a spingere alla fine come abbiamo fatto nella scorsa gara per distanziare i piloti dietro mentre Russell si è preso la settima posizione in lotta con Vettel quindi saremo in lotta per la terza posizione se riusciamo a mantenerci in quella posizione e per la settima e l'ottava con Sebastian Vettel con Russell peccato peccato perché George Russell poteva essere lì a giocarsela con Norris e con Perez quella posizione comunque ora focalizziamoci sulle lotte che abbiamo in corso perché è inutile piangere sul latte versato è stata una gara molto molto difficile da gestire quindi ci sa che possano succedere queste cose ma con Norris ancora ci stiamo giocando il podio qui a Silverson sta iniziando l'ultimo giro per Max Verstappen è il momento di spingere al massimo con entrambi i nostri piloti per cercare di mantenere la posizione con George Russell di difenderci nei confronti di Sebastian Vettel ma soprattutto con Lando di andare all'attacco e provare a prenderci questo gran podio sarebbe un gran risultato per noi andiamo in potenza con entrambi i nostri piloti spingere al massimo anche sulla gomma questa può essere la prima occasione per Lando Norris per prendersi la posizione già si va a prendere la posizione vediamo se però riusciamo a mettere un buon vantaggio per riuscire poi a difenderci nel prossimo rettilineo se non sbaglio il Hangar Straight dopo Maggots & Beckets ha già preso un buon vantaggio Lando Norris per questa terza posizione l'ha dietro non molato Leclerc e Gasly lo abbiamo visto in diretta il sorpasso di Norris su Perez mentre il Sebastian Vettel ha il DRS ma è lontano per riuscire ad attaccare George Russell che deve però cercare di gestire la sua batteria proprio per l'Hungar Straight quasi un secondo tra Norris e Perez quasi un secondo quindi Norris potrebbe riuscire a difendersi vittoria per Max Verstappen attenzione a Russell che deve difendersi con poca batteria nell'ultima fase di questa gara eccolo Norris che è riuscito a difendersi quindi si può mantenere la terza posizione andiamo a vedere la vittoria di Max Verstappen dietro un risultato del genere c'è una carriera costruita attraverso anni di duro lavoro è fenomenale e noi andiamo però a vedere la fine di questa gara con Russell che deve spingere al massimo ora ma un buon vantaggio di oltre 5 decimi nei confronti di Sebastian Vettel Norris va a chiudere sul podio terza posizione attenzione attenzione l'attacco di Vettel giro veloce per Lando Norris nell'ultimo giro della gara quindi potrebbe essere anche un punto aggiuntivo per noi e George Russell sta andando a chiudere con una buonissima settima posizione poteva essere di più ma ancora una volta incetta di punti per noi e soprattutto continuiamo a guadagnare nei confronti dell'Alfa Tauri Lando Norris può sentirsi orgoglioso prestazione impeccabile la sua la squadra meritava senza dubbio un posto sul podio e oggi l'ha ottenuto e dopo una gara di livello altissimo non sorprende che Lando sia andato a prendersi un podio più che meritato non sono solo i trofei a contare oggi ma i punti che alla fine potrebbero fare la differenza un ottimo piazzamento per la McLaren l'intera squadra ha lavorato in perfetta sintonia non hanno commesso un singolo errore in tutto il weekend a weekend concluso la squadra è al terzo posto della classifica costruttori per la prossima tappa i piloti si lanceranno a tutta velocità tra le foreste dell'Astiria il gran premio d'Austria è comunque un ottimo risultato per noi ancora un podio Verstappen Sainz Norris Perez Leclerc Gasly Russell Vettel Hamilton e Alexander Albon questa la top 10 coloro che sono quindi arrivati a punti fuori dalla zona punti bottas la tifi Ricciardo Strollo con Alonso Magnussen Guanyo Sunoda e Mick Schumacher classifica piloti Verstappen a lunga in vetta su Carlo Sainz Charles Leclerc Perez in quarta Norris conferma la quinta posizione George Russell conferma la sesta posizione con Gasly che guadagna nei confronti di Russell ma non abbastanza solo due punti classifica costruttori allunghiamo in terza Ferrari 312 Red Bull 306 lotta aperta per la prima posizione poi McLaren 198 ottimo vantaggio nei confronti dell'Alfa Tauri a quota 81 con Mercedes ferma in quinta posizione a quota 59 ed eccoci tornati nella nostra dashboard abbiamo un'email importante poi andremo a vedere i punti sviluppo regolamento sportivo un voto vota a favore della proposta di modifica punto bonus per la pole position passiamo dal no al sì punto bonus per il giro veloce rimarrebbe sì punti doppi per l'ultima gara da no a sì sinceramente non mi piace l'idea dei punti doppi per l'ultima gara mi piacerebbe il punto bonus per la pole position perché ti invita a dare veramente il massimo nelle qualifiche ma sinceramente l'opzione dei punti doppi per l'ultima gara sovrasta il mio piacere per il punto bonus per la pole position quindi vado a votare contro la proposta di modifica del regolamento panoramica post gara superiore alle aspettative piloti andiamo nella schermata di George Russell che non ha punti sviluppo ne ha uno Lando Norris e andiamo su una delle sue statistiche minori quindi o adattabilità o difesa andiamo su difesa mentre per Jack Doohan non ha punti sviluppo andiamo a vedere nel nostro personale se qualcuno ha dei punti sviluppo uno per Mitchell Comer Delta DRS deportanza ad alta velocità per quanto riguarda gli ingegneri di gara invece nessuno dei due ha dei punti sviluppo quindi home e possiamo andare tranquillamente nella schermata della vettura dovremo avere ancora due progetti in corso e ancora ci mettono veramente tanto 50 giorni per il sottoscocca 8 giorni per la ricerca sospensione quindi arriveremo prima al fine settimana austriaco ci siamo siamo alla fine settimana appunto del Red Bull Ring anteprima gara pilota emergente Ralf Schroeder non ci interessa preparativi pre-gara dell'Austrian Grand Prix ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate un bel mi piace commentate qui sotto fatemi sapere il vostro pronostico per l'Austrian Grand Prix al Red Bull Ring ovviamente se siete nuovi nel canale vi invito come sempre ad iscrivervi e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti vi ringrazio l'appuntamento il prossimo già lo sapete Red Bull Ring undicesimo round di questa stagione l'Austrian Grand Prix e ancora grazie e alla prossima ciao e l'Ars e alla prossima